La notte dei morti nel canale di Sicilia e il fallimento dell'operazione Triton, c'è bisogno ancora di Mare Nostrum? Lei ha già parlato con il commissario Avramopoulos? Il naufragio di questa notte si è verificato a circa 40 miglia da Tripoli, quindi non è stato vicino all'Italia, è stato vicino all'Ampedusa. Non è stato vicino all'Italia, è stato vicino alla Libia, è stato lontano da Lampedusa e vicino alla Libia. Si tratta di un intervento che è ancora stato effettuato dalle nostre capitanerie nella conclusione, nel phasing out, nella via d'uscita da Mare Nostrum, nei tre mesi che avevamo deciso che avrebbero rappresentato la uscita da Mare Nostrum. Noi piangiamo queste vittime e al tempo stesso ribadiamo che il contrasto ai mercanti di morte è la cosa più importante. Cioè questo naufragio è avvenuto dalla parte della Libia, è avvenuto a 40 miglia dalla Libia e a 100 miglia dall'Ampedusa. Quindi occorre comprendere come la nostra azione è un'azione corretta, è un'azione giusta, ci posizioneremo sulla linea di confine di Schengen ed in questo momento noi abbiamo a che fare con una situazione che si svolge ancora una volta dalle parti della Libia e dalle parti dell'Africa. I nostri sono intervenuti perché siamo nella fase di uscita da Mare Nostrum, dopo la chiusura del Mare Nostrum che abbiamo conosciuto, cioè dal primo novembre non c'è più il Mare Nostrum che abbiamo conosciuto e in questi tre mesi abbiamo detto che avremmo fatto un'operazione ridotta. E queste conseguenze sono frutto di un'azione dei trafficanti di esseri umani che non si rassegnano al fatto che quando arriva in Italia, e lo dimostra ancora la procura di Catania con la sua azione dell'altro giorno, noi li arrestiamo e sequestriamo i loro mezzi. Però, scusi Ministro, cioè questo significa che nei prossimi mesi ci dobbiamo abituare a tante altre morti vicino alle coste della Libia? La Marina Militare Italiana aveva detto che era disponibile a continuare con Mare Nostrum. Noi abbiamo avuto purtroppo tante morti anche durante Mare Nostrum. Vi faccio presente che 499 cadaveri sono stati contati durante l'operazione Mare Nostrum e altri 1.500, secondo le dichiarazioni dei superstiti, sono dispersi. Quindi durante Mare Nostrum sono state salvate decine e decine di migliaia di vite umane, ma non si sono evitate le morti, purtroppo. Nel senso che se 499 sono i cadaveri contati e oltre 1.500 dispersi, non è che con Mare Nostrum si sia riusciti a salvare tutti. Ministro, sono giornate particolari anche per quanto sta accadendo a Roma. Lei ha detto che esiste comunque sia un'ipotesi di scioglimento per mafia del Comune e bisogna andarci con i piedi di piombo. Ci può dire, secondo lei, la tempistica in cui prenderete questo tipo di decisione e se la prenderete? Il commissariamento del Comune è un procedimento molto complesso e bisogna andarci con i piedi di piombo. Non si annuncia un commissariamento, anche perché il sindaco Marino non è coinvolto da queste vicende. E aggiungo anche che la capitale d'Italia, Roma, è una città sana, non è una città marcia. E l'attitudine del governo non è quella di punire una città, ma deve essere quella di aiutare le forze dell'ordine e aiutare la magistratura a fare sì che vengano puniti i colpevoli. E per quanto riguarda invece il coinvolgimento della politica che è stato trasversare, che emerge da questa inchiesta, quali conseguenze si possono ottenere? E che ancora c'è chi ruba e c'è chi non si rassegna al fatto che rubare ti porta in galera. Vanno riducendosi sempre di più gli spazi di impunità per i politici che rubano e noi, persone che siamo nelle istituzioni, che siamo oneste e che non rubiamo, ce l'abbiamo contro i politici che rubano ancora di più di quanto ce l'abbiano i cittadini che non fanno politica, perché creano i politici che rubano una disparità nei confronti di quelli onesti. E creano un disonore e un disdoro nei confronti della politica che chi fa politica con onestà a questi qui ce li ha più sulle scatole di quanto sulle scatole ce l'abbia ogni semplice cittadino che è semplice nel senso che non fa politica nelle istituzioni e che dunque in questo momento guarda le istituzioni come nemiche e allora tutti i cittadini devono sapere che colore quali stanno nelle istituzioni e fanno politica hanno un sentimento negativo, terribilmente negativo, contro chi fa politica e ruba che è assolutamente paragonabile a quello loro. Posso chiederle ancora un'altra cosa, diciamo molto forse anche su questa vicenda dipende dal suo ministero, nel senso che lei, sui soldi che vanno a finire alle cooperative che speculano poi sulla vita degli immigrati, dei rifugiati, in realtà forse si potrebbe mettere un filtro, cioè valutare se sono effettivamente attendibili, affidabili i personaggi che poi prendono questi soldi. Lei ha pensato ad una via d'uscita proprio con una selezione del ministero dell'interno su questo? Guardi ci sono tanti ambiti di ruberie che stanno venendo fuori e noi invitiamo la magistratura a ripulire dal marcio ovunque il marcio si trovi, senza guardare in faccia a nessuno. Quindi voi non farete niente in più? Noi abbiamo un potere di controllo a monte che abbiamo sempre esercitato e che continueremo ad esercitare. Grazie. Noi abbiamo ottenuto che l'Europa per la prima volta si occupi della frontiera di Schengen. Mare Nostrum è stata un'operazione ad intero carico italiano che è costata 114 milioni di euro. L'operazione Tritone è a carico dell'Europa, costa 0 euro per le casse italiane ed è un contributo che l'Europa dà al presidio delle frontiere. Quelle frontiere sono frontiere comuni, sono frontiere del Mediterraneo che non rappresentano la frontiera italiana ma la frontiera europea. Quelli che vengono qui attraverso il Mediterraneo vogliono venire non in Italia ma in larga misura in Europa. Quindi ha fatto bene l'Europa a fare questo. E' chiaro che le navi italiane non si sottrarranno all'obbligo derivante dalla legge del mare di soccorrere coloro i quali si trovano in difficoltà. Grazie. La questione di S. e del Stato Islamico, cosa fate oggi? Oggi stiamo andando avanti su una strategia di contrasto al terrorismo internazionale sta raccogliendo molte adesioni la proposta italiana di costituire delle squadre multinazionali ad hoc con un collegamento tra vari riferimenti dei singoli paesi con dei punti di contatto che sono i punti di contatto che si occupano di terrorismo in ciascun paese e che possono tra di loro collaborare e parlare per una maggiore fluidità delle informazioni. Inoltre noi investiremo ulteriormente nel negoziato con il Parlamento europeo per portare a casa, per portare a compimento la direttiva PNR e c'è sul Passenger Name Record. E' un punto di equilibrio molto delicato quello che stiamo cercando tra privacy e sicurezza, tra la protezione dei dati personali e la sicurezza e ci muoveremo per trovare questo punto di equilibrio e soprattutto per fare avanzare il negoziato con il Parlamento europeo e portare a compimento questa direttiva. Grazie.